Quella di oggi non è una minaccia, è una riflessione, perché la palestra potrebbe chiudere. Voi chiedete degli sponsor, non chiedete delle cifre esorbitanti, chiedete però che vi aiutino ad andare avanti nel vostro lavoro. Sì, noi chiediamo un'attenzione maggiore. Adesso so che ci sono delle difficoltà, le amministrazioni non hanno soldi, però sicuramente questa pallina deve arrivare a Roma perché non c'è bisogno solo di polizia, carabinieri e finanza, ma c'è bisogno di uno spazio di crescita. Noi ringraziamo le forze dell'ordine perché con la loro presenza ci danno la sicurezza, però i nostri figli, i nostri ragazzi non possiamo rischiare di perdere questa opportunità. Questa è un'opportunità di crescita che io e la mia famiglia sono sette anni che stiamo qui. I primi due anni ci ha aiutato Benetton, quindi se uno sponsor del Nord è riuscito a far vivere questa realtà per due anni, io spero che la napoletanità, i veri napoletani, mi diano una mano per mandare avanti questa palestra. In questa palestra vengono i diversamente abili che non pagano, gli immigrati del Mali, i ragazzi del Martusciello e i ragazzi dell'area penale. E a Scampia un luogo come la palestra Maddaloni diventa un'importantissima speranza di rinascita e soprattutto l'unico modo per sottrarre i ragazzi alla criminalità dilagante del quartiere. Dallo sport si può ripartire dalla palestra Maddaloni che insegna regole che vanno al di là dell'agonismo e che diventano insegnamenti di vita. La rieducazione può partire dallo sport, ci sono i ragazzi che sono nei penitenziari, figli di carcerati, quindi riescono ad avere poi una rieducazione attraverso lo sport. Ma lo sport è stato proprio sempre il motore per poter rimettere insieme perché dà lo spirito di colpo, dà impegni ai ragazzi, evita che ci siano sulla strada e quindi naturalmente bisogna sempre sostenerlo perché anzi è l'unica forma per i ragazzi per poterli interessare a rispettare le regole perché lo sport è soprattutto il rispetto delle regole. Quindi è una buona lezione di vita e speriamo che si possa andare avanti.